Ebbene, chi è felice in questa società è un pazzo, un idiota o un incosciente menefreghista. Campagna informativa non campagnola. Spingere al massimo. Per quanto tempo dovremo e anche dovremmo andare avanti con questo muro di gomma di ipocrisie stagnanti che creano conflitti psicologici devastanti? Per quanto tempo ancora dovremo leggere quei post figli della faciloneria che poi le scrivono quelli di 50 anni, queste zitelle a buon mercato, gli sfoghi isterici di Biot Savon, semmai abitano pure a Savona, e questa massa di trugloditi che si fa imbonire dalla retorica più trita, ritrita, vomita sul prossimo, le solite pedanti, vi disse quei imbecilità standard, perseverare alienante, di questa società omologante ogni coscienza vivamente pensante, si siamo stanchi di quegli slogan che oramai campeggiano su Facebook, ad esempio del tipo, vuoi fottere il sistema? Studia. Innanzitutto già il termine fottere è orribile da abrogare, quando sento dire mi son fottuto quella lì, quella appunto me la voglio fottere, io stasera me la fottere, fottiti, qualcuno ti incula, nessuno ti caga, ma qualcuno ti caga, incula, caga, fotte, mi sembra di essere regredita ai tempi del film R2B a God, se il medioevo non era quello da voi favoleggiato, mistificato, idealizzato, di quelle stronzate fantasy che voi bambine fra le nuvole scrivete di tanto cuore tenerissimo, creandovi appunto la fantasia principesca e effimera che vi possa distrarre per un po', giusto un battito di ciglia e rompersi delle vostre unghiette smaltate, da un'esistenza in vero degradata, tribolata, disgraziata, di patimenti e giugulari urlanti, di continue lotte genitoriali, di psicotiche lagne depressive, anali e ombelicali, oltre che deprimenti, figli del vostro ambiente, tanto a parole saccente, quanto in vero nel reale quotidiano soltanto qualcosa di straordinario, ma non in senso eccesso o eccezionale del termine, bensì squalidamente declassato, da piccolo borghissi che taburghissatè, che tanto nei loro scritti idolatrano e sognano una vita da reginette alate e invece affondano sempre più nella melma inconsolabile d'angosce miserabili, talvolta memorabili. Per voi non c'è speranza, ma quale sapienza? Io ne ho una? No, non tanto. Io sono già morto da quando nacqui ed è stato soltanto respirare con asma e mangiare flebilmente, sì, con tanto di flebo, agganciato al letto di un'euterasia che, con enorme forza interiore, non voglio che al pacino Jack Volkian mi pratichi il dottor Bortem. No, nonostante tutto, in questo mio mare dentro, dentro, non ho marrento, e questa sofferenza abissale, adesso recito come Javier Bartem, e alla sua maniera anche qualcosa, di tristemente stupendo, oltre che un po' stupido, perché leopardianamente non ha fragarmi dolci in questo mare, ma è anche dolorosissimo sapere che quella donna, da me molto ambita, con l'abito leopardato, non sarà mai la mia pantera. Lordata. E la sua cosa nera lei darà a quel trombone pieno di soldi col fisico a pera. Parliamo di uno spasimo, da romantico spasimante, anche, diciamocelo amici, di uno spumante, del suo amante a lei, frizzante, ma a me molto dolente. E in questa dolenza, anzi in tale indolenza, io getto le lenze, ma sonni io, al solito, ad abboccare come un pesce. Le donne si giocano con me, ma alla fin fine, stringi, stringi, come si suol dire, non il mio stringono, sono uomini lerci in vero che le tingono, e i loro uccelli non restringono. Eppur, sebbene abbia scritto la saga del Cavaliere, trovate i miei libri sulle maggiori catene librarie, online, con tanto di Clint Eastwood in copertina, in quello di Madrid, e io stesso, duelli. Duelli non è sostantivo, è usato a mo' di verbo, duelli. Giornalmente, con le mie nevrosi, le mie preoccupazioni spesso insopprimibili, so che sono soltanto storie, fini e a se stesse, ma storie appunto istudiane, di uomini coraggiosi, coscienti che il mondo è ingiusto. Va la pena forse combattere per i propri ideali e non abbiurare, come in silence, nei confronti del porcile collettivo, ma altrettanto consapevoli che forse è stata soltanto una guerra contro i mulini a vento, una splendida utopia. Volete sapere qual è la scena cinematografica più bella dell'anno? Ovviamente, avevate dei dubbi, conoscendomi, quella in cui il grande Clint, The Greatest, vede dal suo pick-up gli elicotteri sorvolargli la testa di cazzo, capisce che il suo viaggio è terminato e non gli resta altro che farsi arrestare. E allora si volta verso noi spettatori, quasi in stile Larry David, del basso che funzioni, Woody Allen, all'emiano, col volto tumefatto e sporco di sangue e ammicca come a dirci stavolta son fottuto davvero, appunto, colpo di genio assoluto. Sì, non è vero che per fottere il sistema bisogna studiare bene, meglio degli altri, è una grande balla. Puoi avere tre lauree, uno in lettere, filosofia, una scienza delle comunicazioni, un al-dams, ma non ti prendono neppure alla rivista di cinema della parrocchia San Martino, vicino a casa mia. E se diciamo, non conosci le persone giuste, non è la cosiddetta spinta e soprattutto se non lecchi e corrompi. Quindi finiamola con la puttanata. Questa è la realtà, non un luogo comune. La realtà è un luogo ipocrite dove furbe se prostituiscono e imborgesiti alla viscidità di questo sistema di falsità. E poi ricattano quelli da loro considerati deboli se soffri di qualche fragilità col dono della presunta superiorità. Sapete, se finisci nella merda, che vi diranno? Certo, lo sapete meglio di me, perché noi di merda ne abbiamo vista ingoiata, bocconi amarissimi. Se ti diranno che non sei uno delle bocconi, ma per fortuna, signora, ma solo un bel bocconcino per una misera scopata e via. E poi, dopo l'uccello da loro spolpato, torneranno dal marito sistemato e vi crederanno che vuoi, cos'è questo lamento? Ti ho godotto, la sai? Ho messo anche dei fannari lamenti, ci hanno sentito pure i vicini sordi di novant'anni. Oh, a questa qua bisogna rispondere con Alberto Sordino. Ora, li vedi bene dei coglioni, rimboccati le mani che io le ho coperte, nonostante tu mi abbia scoperto in ogni seno e senso all'atobi e non, non te le rimbocco. Cosa vuoi essere rimboccato, brocco? Se ancora mi disturberai chiedendomi la mano, sì, ti scaglierò in testa una brocca. Dattina a mossa e fottitene. Mike, nell'ultimo incontro credo di aver spinto un po' troppo, quel tipo che dovrei affrontare adesso, Bularley, non perde da cinque anni un campione vero. Io non so, non lo so se è forte o Mike, è molto forte. Mi posso confidare con voi? Non sono un fanatico del sesso, anzi, stamattino guardate una bella scena pornografica con quel culo stratosferico di quella patonza incredibile di nome Ryan Conner, ma non Ryan Conner di adesso, Ryan Conner di dieci anni fa, un culo devastante. Però mi mette sempre tristezze queste scene, sì. Prima ho scritto che, così ridete, no? Mi faccio ridere, non c'è niente da ridere, no, no, purtroppo. In questo tipo di società credo che mi spezzeranno il braccio anche se l'hanno già fatto. E queste quanti, il resto, è una grande strunzette. Sì, lo è, se siete giù e vi diranno di curarvi, se tu ti confidi con qualcuno, dici, beh sai, mi sento un po' giù, un po' depresso, beh, vatti a curare. Ma che cazzo state facendo? Che cazzo vi è saltato nel cervello? Vi diranno di curarvi, appunto, di rivolgervi al qualche specialista dell'anima, non date loro retta. Questi qua, i cosiddetti psichiatri, sapete cosa fanno? Ve lo dico io. Vi rabboniscono, vi sedano, sì, vi distruggeranno, vi bombarderanno di farmaci, vi sederanno, vi spaccheranno le gambe, vi amputeranno nel morale, crollerete e non tutti si alzano, io sì. E poi vi diranno che la vita è bella, non è successo niente, beh, in fondo, non è stata una tragedia, si va avanti, no? Ma è sabato sera, andiamo a ballare, e certo, come no, me li dai tu i soldi, faccia di merda. Infatti, è stato peggio. Beh Stefano, cos'è questa uscita? Sei ancora giovane. No, non più. Sono duro, durissimo, intransigente, rigido fascista, come lo siete stati voi. Scena capolavoro di Demiul, che coraggio può in tribunale, o questa a due palle come un toro, la sua avvocatessa vuole comutargli la pena per una sorta di infermità mentale, perché Earl avrebbe agito così in quanto malata e vecchia, un po' è un po' demente, è non sapeva cosa faceva, è poverino, no, 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 non ci siamo capiti. Clint risponde, no, sono colpevole, e me ne assumo tutte le responsabilità, perché quando io ho fatto lo stronzo, l'ho fatto coscientemente, come gli altri hanno fatto gli stronzi con me, e se agito così è perché non aveva alternative, no, aveva bisogno di soldi, aveva bisogno della sua vita andata a puttane, quindi non voglio più sentire idiozie, colpevoli lui, colpevoli tutti, e andate a farvi fottere.